Sono iniziati i lavori per la tre giorni di architettura, dal titolo Note di architettura e giunta alla nona edizione, manifestazione promossa dall'ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Pistoia ed organizzata congiuntamente al comune di Pistoia. Nona edizione, Note di architettura, quest'anno questo tema è stato scelto anche come quello dell'ultimo anno precedente perché si lega particolarmente alle sorti della città. Noi ci teniamo che il tema sia di interesse anche per i cittadini, Pistoia è nota universalmente come la città degli organi e quindi è un argomento che può essere interessante non solo per gli iscritti e gli architetti ma anche per il cittadino comune e poi sarebbe importante anche la Fondazione Tronci che ha una grandissima collezione di percussioni, di batterie, di piatti, un po' nota un po' in tutto il mondo. Interventi, incontri ed eventi dal 16 al 18 novembre per esplorare in connubio tra arte e musica ed una originale passeggiata matematica per le vie di Pistoia. Credo che sia l'evento quello un po' più atteso da tutti. Un professore di matematica dell'Università di Firenze, il professor Conti, ci accompagnerà in città a visitare i monumenti storici raccontandoceli attraverso le proporzioni armoniche che legano le forme architettoniche degli edifici del Rinascimento e quindi sarà sicuramente un evento molto curioso.